Piano per l'edilizia scolastica siciliana. Sono oltre 400 gli interventi finanziabili inclusi nelle graduatorie per i prossimi tre anni e trasmesse al Ministero dell'Istruzione. In particolare le richieste presentate dai comuni sono state 356, quelli dalle ex province sono 91. Questa è la risposta al bando pubblicato ad aprile scorso dal Governo regionale e curato dall'assessorato all'istruzione. Il termine di presentazione delle istanze è stato rispettato e questo consente di impegnare nell'immediato 272 milioni di euro per opere cantierabili già a partire da quest'anno, secondo una graduatoria definitiva degli interventi elaborata dal MIUR e che sarà pubblicata a ottobre. La somma stanziata al momento non permette di soddisfare il fabbisogno di tutte le domande, per questo le risorse saranno progressivamente aumentate. E' stato, afferma il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, un lavoro straordinario condotto in tempi brevissimi con un'ampia partecipazione da parte degli enti locali. Questo grazie anche al supporto fornito dall'Associazione dei Comuni, dall'Agenzia Nazionale della Coesione Territoriale e dall'Associazione dei Costruttori Edili. Secondo i recentissimi dati dell'anagrafe regionale, circa il 60% delle strutture scolastiche non è in regola, con le certificazioni antisismiche e il 70% è senza agibilità. Con questo intervento finanziario, conclude il Governatore, contiamo di ridurre notevolmente tale percentuale. Le opere previste sono finanziate a ristrutturazione, adeguamento antisismico e antincendio, ampliamenti o realizzazioni di nuove costruzioni, palestre, menze, aree ricreative e rimozione di barriere architettoniche. 161 progetti, seppure ammessi al finanziamento, rimangono al momento in attesa delle verifiche preventive di vulnerabilità sismica degli edifici, verifiche necessarie per le successive opere di adeguamento che potranno essere finanziate nel corso del 2019. Presentato al Ministero anche l'elenco delle 142 istanze riguardanti il piano straordinario di interventi per l'adeguamento antincendio. E' un passo decisivo, aggiunge l'assessore all'istruzione Roberto Lagalla, verso una riqualificazione generale del sistema dell'istruzione siciliana, che passa necessariamente attraverso la messa in sicurezza e il rinnovo strutturale delle aule nelle quali trascorrono le giornate i nostri studenti. Abbiamo ritenuto una priorità poter consentire loro di vivere ore di attività didattiche in un ambiente sicuro ed efficiente. Per questo si è deciso di attribuire un punteggio maggiore agli interventi riguardanti anche l'ampliamento degli edifici scolastici attraverso menze e spazi ricreativi e palestre.